La questione di Marò è una questione abbastanza interessante sotto il profilo del diritto internazionale. Qui non è questione se debbano essere processati in Italia o in India. È evidente che lì la giurisdizione indiana per le regole del diritto internazionale non c'è, assolutamente, perché il fatto è avvenuto in acqua internazionale, quindi la giurisdizione dello Stato della Bandiera e dello Stato dei Marò in questo caso, che hanno agito tra l'altro come individui organi dello Stato. Quindi è piena giurisdizione interna italiana, ammesso che ci siano state delle irregolarità, delle violazioni. Qui bisogna anche considerare che è una zona ad alto rischio quella dove sono venuti i fatti e i cittadini indiani, per duro che possa sembrare quello che sto per dire in questa dichiarazione, sono stati scambiati per pirati e quindi purtroppo, perché quando si tratta di video umani bisogna dire purtroppo, ma l'uccisione è avvenuta per errore. E le autorità indiane cosa possono volere per i nostri Marò italiani? Guardi, le autorità indiane per i nostri Marò non possono volere nulla, perché, ripeto, non c'è giurisdizione indiana. Tra l'altro mi sembra che l'Alta Corte del Kerala abbia escluso questa giurisdizione e abbia per converso auspicato l'istituzione di un tribunale speciale, che tra l'altro, ripeto, per le norme di diritto internazionale non sembra, per il luogo dove sono venuti i fatti, per il locus commissi delicti, assolutamente avere appunto giurisdizione. Non c'è giurisdizione indiana. Se mai c'è il problema del diplomatico italiano, il problema del diplomatico italiano, anche quello lo si risolve sulla base della Convenzione di Vienna. Quindi le immunità sono garantite, sono pienamente garantite nei confronti del diplomatico. Non possono pretendere assolutamente nulla, in virtù del diritto internazionale generale e di quello pattizio. Certo, si auspica una soluzione pacifica, un arbitrato, come sempre avviene in questi casi, e il diritto internazionale, ormai la storia potremmo dire del diritto internazionale, è piena di casi simili a questo, che hanno avuto il loro esito e la loro soluzione pacifica dinanzi al tribunale arbitrali. Ma qui possiamo andare addirittura al 1929, alla French-Mexican Commission, giusto per fare un caso, per citare un caso che per certi versi potrebbe essere in qualche modo simile. Speriamo in un processo breve, quindi? Ma speriamo, o addirittura, io ho esiti, non ne posso fare, non posso sostituirmi alle valutazioni che faranno le nostre autorità. Ripeto, allo stato degli atti quello che è sicuro è che giurisdizione indiana non ce n'è.